Se accetti la richiesta di amicizia potrai essere nei guai. Questa è la truffa più famosa che sta viaggiando da molti anni in rete, ma che tutt'oggi miete ancora numerose vittime. Andiamo a scoprire come funziona. A meno che non tu sia Richard Gere o Kevin Costner o un avvenente giovane muscoloso modello, se riceverai una richiesta di amicizia da un'avvenente ragazza prosperosa, certamente apparecente, poniti qualche domanda. Perché? Perché dietro a questa richiesta di amicizia si nasconde realmente un'organizzazione di cybercriminali che ha spesso sede in Nord Africa. Ma come funziona la truffa? Beh, questa ragazza che realmente esiste, in qualche modo svilupperà una sorta di relazione online sia al punto in cui ti chiederà di poterti vedere in webcam. E una volta che tu accetterai questa cosa, ti porterà lentamente, perché sarà lei la prima a spogliarsi, chiederà a te di fare altrettanto e quindi ti inviterà ad effettuare sesso virtuale a questo punto. Ma lì viene il bello, perché tu hai insaputa, il filmato viene registrato e a quel punto parte il ricatto. La ragazza ti dirà, pagami 300 euro, questa è la somma che spesso si sente ricorrere, altrimenti metterò online il filmato, altrimenti invierò il filmato del tuo spogliarello più o meno spinto a tutta la lista dei tuoi amici. Ecco come funziona la truffa. Ma non è finita, perché se tu non accetterai questa prima fase di ricatto, sarà ancora più subito la cosa, perché il tuo filmato o un fotogramma del tuo filmato sarà elaborato artificialmente e con un titolo Tizio, e tizio sei tu, si sta spogliando di fronte ad una bambina. Quindi sfruttano anche l'argomento pedofilia. Fate attenzione, fate veramente attenzione, perché è la truffa che miete più vittime di quanto si possa immaginare. Quindi prestate molta attenzione e ripeto, se ricevete una richiesta di amicizia da una ragazza o da un profilo particolarmente avvenente, con delle foto particolarmente avvenenti, ponetevi qualche domanda. Fate molta molta attenzione. A questo punto, come dico sempre in tutti i miei video di denuncia, affinché l'informazione viaggi più veloce della mano del truffatore, condividete questo video il più possibile, proprio per dare notizia. Se anche tu sei stato sottoposto, sottoposta, ad una truffa o ad una tentata truffa, contattami in privato all'indirizzo mail diegosantichannel.com, approfondiremo il discorso e realizzerò un filmato raccontando il metodo operandi di questa truffa e grazie al tuo contributo lo renderemo noto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale, lasciate un commento qui sotto e mettete anche un bel like, perché no? Grazie a tutti.